ma chissà non sei a lavoro adesso ma chissà se ne sbatti i coglioni qua c'è il vecchio dell'alpe me ne sbatto le palle voglio inquadrarti meglio ho fatto dalle sette alle cinque sono le quattro fra magari sette e quindici boh vabbè ah ecco sì penso anch'io infatti cioè raga siamo arrivati al punto che sette cinque è illegale magari la strabacco ci servirà in un caso dai vecchio di merda dai comunque quel ciccione non ci ha lasciato passare comunque mi fa piacere vado sette e quindici così viene a vederti lo streaming cioè immagina che soddisfazione ma è rimasto ecco questo è quello che ti dicevo croby questo è quello che ti dicevo la fidabilità di ninja scang se è 26 livelli sopra mi sto cagando in mano guarda questo vecchio di merda ah vecchio di merda brutto colpo porca e l'ha fatto l'ha fatto porco per forbecco vabbè guarda whatsapp ah è 22 che è bannato bro non si può più dire in questo streaming 22 non si può dire tenta cruel del 44 come va giù di roll dai fra dai dai un attacco ma non mi può utilizzare il suo ratito rugito oh si tu groby c'hai il il mod te levo il mod voglio vedere che cazzo fai barriera ti uso barriera ma usami una mossa super efficace no avrà un cazzo dai acqua di sale dai che mi fa ancora più danno oh brutto colpo ho fatto 4 brutto colpo questo figlio di puttana non cade più non lo posso attaccare per le regole eh gli ho dato 9000 iene a questo vecchio dicevo il tuo eh oh ma ogni volta ci sono dei bid off di me sempre così ma comunque la colpa di ciò è del roll compra l'alcol va troia comunque tutti quei soldi scherzando adesso mi tocca rifare tutto il percorso a cavo per colpa di questo stronzo devo anche ricordarmi dove sono andato ma ci rendiamo conto ragazzi di che dramma il tutto per arrivare a un posto per prendere mazzate mi daranno con la spranga ragazzi altro che e non dico spranga a caso per spaccare roccia sì ma dovevo andare di qua però mi fai un secondo indagare qua ok abbiamo indagato soffri tipi roccia il ninja soffre ogni tipo esistente ninja pensa a te se tu gli tiri fuoco pugno ninja scade gli tiri zero raggio cade gli tiri roccia tomba cade cioè il ninja letteralmente soffre ogni cagata di cosa infatti io non riesco ancora a capacitarmi di come essere riuscito a battere bianca e per me battersoso è stato un miracolo di dio tipo ha guardato un qualcuno dal basso eh ma ogni volta ci metto 30.000 passi e vamos adesso mi faccio un fun fact io sono tutta sta cazzo di strada da qua sono tutta la strada per non arrivare alla lega perché ho sbagliato la strada magari devo andare di qua insieme lo faccio cosa c'è di qua film preferito come Jerry non so dove cazzo porta questo è holy shit ne basta la pena ragazzi mi basta la pena sì eh sì non te la fai te non te la fai te la do per doppio e qua abbiamo la nostra è Emily psiche abbiamo qua è lì ma penso vi per vendetta comunque il mio film preferito scherzi a parte pensandoci un attimo sia perché non visti quattro dunque il cerchio è molto distretto andiamo a vedere che vi per vendetta è un signor film quindi è figo sì un po' di vi per vendetta se sono così anarchico tocca affronta sto cazzo di vecchio è da un po' che non lo rivedo dai via co di mierda eccolo sta vecchietto file save state al 5 muovo per vedere ti parlo io brutto bastardo faccio la stessa cosa che farei se avessi contro Camilla si lenza spada gridio ah ok forbice x allora salta non lo sbaglia lo dico io bello su rng avevo l'attacco boostato a 1000 0 danni prima danza spada così draga oh forbice x subito bello gibbo morti 2 cazzo yalados yalados porco no 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 vediamo la velocità ma non è ninjas c'è questo problema qua aumentati la velocità quanto cazzo vuoi ma non sei ninjas dai fra oh alla allah 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 allora deposita via la pietra via la pantegana via porco gli tentacrur nessun pc amore assolutamente certo viene la la pantegana ci leviamo dai coglioni o mi ha sei è il primo è uno star raptor cioè non solo è un counter diretto perché è volante ma prepotenza dunque dio non mi guantappa mai nella vita neanche se mi critta con cosa usa zuffa brutto colpo difesa di salaptor cala tutto quello che potevi usare è usato zuffa brutto colpo siamo all'assalto ascolta sento che di questa lotta non ce ne frega un cazzo buono via al primo rapidas hp flotzel acquaggetto stiamo arrivando alla lega leggermente over livellati con un pokemon che se colpisci muore eracris oh ecco per te eracris grande garanzia da parte di zuado con text pit astrolo comunque abbastanza torte ooooo sempre grandi notizie credo fermamente in lui anche io 2k tipo pokemon tanti problemi non sono mica qua io si ho fatto il teatro immagino di essere pronto per la lega pokemon vedrai che diventerà il camion e sarò il più fuori da tutti gli allenatori non farti battere nessuno prima di perdere contro di me prevate dai coglioni confermare che hai le qualifiche per sfidare la lega pokemon guardiamo le qualifiche esaminiamo un po' le medaglie raccolte nella regione di sinno la medaglia carbone di mineropoli la medaglia bosco di evopoli la medaglia ciottolo di rupepoli la medaglia a quiterino di pratopoli la medaglia a vestigio di cuoripoli la medaglia a cava di canalipoli la medaglia a ghiacciolo di nevepoli e infine la medaglia a faro di arenipoli grandioso allenatore proprio con tutte le medaglie della regione di sinno mostra la forza che ti ha condotto fin qui e aspira la gloria no guarda mi ha fatto passare la voglia di comprare andiamo qua da quest'altra mucca qua dammi per pozione no per pozione da buttare super pozione meno 65 in borsa cazzo te le compro a fare poi andiamo da quest'altra scimmia puoi far riposare la tua squadra si bene ok prendo la tua squadra di pokemon per qualche secondo grande squadrone ragazzi woman army per me ogni volta un'emozione entrare qua e ora si va 1 contro 5 qui